Oggi dipingiamo a spatola Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Art per Te Molto spesso mi chiedete di dipingere a spatola Oggi vi faccio vedere quanto è semplice farlo Dipingeremo a spatola con gli acrilici Prima di spostarci sul piano da lavoro però Vi ricordo di andarmi a cercare in libreria sotto forma di libro Vi aspetto infatti in tutte le librerie sia fisiche che online Con il ricettario dell'arte Il libro in cui troverete custodite tutte le mie ricette sui materiali artistici Tra cui anche la ricetta dei colori acrilici Con questo libro potrete farvi tutto ciò che vi serve per essere creativi E invece con il grande libro del colore potrete usare al meglio Tutti i colori che vi sarete creati Perché qui dentro sono custoditi tutti i segreti Per un utilizzo sapiente e consapevole del colore Vi aspetto in tutte le librerie sia fisiche che online Ma adesso basta parlare spostiamoci di là e andiamo a dipingere Gli acrilici Questo non l'ho detto di là Sono dei colori I segreti I segreti non li dico Allora dovete sapere Che per dipingere Si usano i colori E voi direte Ah ma davvero Ma questo lo sapevo pure io Prima di cominciare il corso Bene Ma voi dovete sapere Che i colori si accoppiano in due modi O per armonia O per contrasto Detto ciò però Una cosa è molto molto importante Ci sono dei colori Che si prestano più di altri Per determinate tecniche pittoriche Per determinati modi di utilizzare la tecnica Guardiamo la tavolozza di stasera Giallo, bianco, rosso, blu e nero Cosa notiamo? Ci sono soltanto i primari E i due non colori Ok? Il bianco e il nero Significa che lavorerò Per contrasto di primari Che non significa Che i primari Non diventeranno anche Dei secondari Ma che utilizzerò Soltanto primari E secondari Non ci saranno terziari In questo tipo di colore E sarà escluso Il verde Da questo tipo Di coloritura Adesso Prepariamo Pezzo di carta Spatolina Tovagliolino Dipingeremo Un tramonto lagunare Diciamo così Ocra gialla Ma non ci serve per il dipinto Ocra gialla Per preparare Il fondo Ricordatevi che il fondo Va sempre preparato Giallo Bianco Vi sta facendo L'ocra Ecco l'ocra Pazzesco Bellissimo E' diversa Da questa Perché sono partita Da un giallo Diverso Diciamo che Quella che ho usato Prima Non era partita Da un giallo Primario Ecco Ma da un giallo Cadmio Ma comunque L'ocra è più questa Che non questa Se proprio vogliamo essere Troppo Troppo Volete sapere Ecco Bello questo colore Ah questo è più bello Mi piace Okra Okra Mi piace Da un'atmosfera Più atmosfera Comincio A fare I miei colori Allora Prendo Adesso Dobbiamo stare attenti Perché Lavorando con Tutti i primari Se li misceliamo Tutti e tre Assieme Cosa succede Cosa succede Se misceliamo Tutti e tre I primari Assieme Si forma Il marrone Quindi Dobbiamo fare in modo Che i primari Si incontrino A due a due E adesso Comincio A creare Il cielo Prendo Prendo del blu E dell'azzurro E lo mischio Ok Una punta Di nero E mischio Bene Arrivati a questo punto Decidete Decidete che tipo Di andamento Volete dare Io voglio dare Un andamento Orizzontale Quindi Appongo E schiaccio Orizzontalmente Ok E asciugo La patina esterna Quando asciugo Con un Materico Non asciugherò mai Effettivamente Il colore Il colore sotto Ricontinuerà ad essere Umido Ma asciugo La parte superiore Per non far impastare Gli altri colori Nero Prendo il rosso E lo impasto Con un po' di blu Quindi A questo punto Non c'è più il giallo Faccio un po' di arancio Mescolo Rosso Cadmio E giallo Sto prendendo il giallo E giallo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se invece dell'acrilico facessimo con la tempera... Cosa? Questo? La texture darebbe un'atmosfera diversa? No, la tempera si sgretolerebbe. Certo. La tempera non è per quadri materischi. Voi perché non lo vedete, ma c'è un grande spessore, considerando che questo è un piccolo quadro. Naturalmente anche quando fate i quadri dovete sempre mettere lo spessore in proporzione con la grandezza del quadretto. No, la tempera non è per quadri, ma c'è un piccolo quadro. La tempera non è per quadri, ma c'è un piccolo quadro. No, la tempera non è per quadri, ma c'è un piccolo quadro. No, la tempera non è per quadri, ma c'è un piccolo quadro. Il nostro quadretto. Dai che carino, su, su, bello colorato. Guardate quanta materia ha. Questo è pieno di materia. Sarà almeno due chili. No, nel senso per la tavola piccola che è, è pieno di materia. Quindi, vi voglio bene. Alla prossima. Ciao. Ciao. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Ciao. Visto che bel tramonto pieno di colori, davvero bellissime. Come sempre, il nero e il bianco, i colori chiarissimi, poi creano quel contrasto che rende meraviglioso qualunque quadro. E allora sbizzarritevi con spatole e creatività e lasciatemi un pollice in su e condividete il video se vi è piaciuto. Noi ci vediamo anche su tutti i miei altri social, Facebook, TikTok, Instagram, Pinterest, dove volete, c'è Arte per te, anche su X. E invece, vis-à-vis, ci diamo appuntamento, sempre qua, per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Alla prossima volta. Ciao. Ciao.